Bene ragazzi, oggi analizziamo il proemio della Gerusalemme liberata di Torquato Tasso. Allora, sono del primo canto le prime cinque ottave. Come sapete, di solito il proemio, come del resto anche il proemio dell'Orlando Furioso, si divide in tre parti. Allora, in questo caso abbiamo la protasi che corrisponde alla prima ottava e sapete che la protasi è la presentazione dell'argomento, una specie di trailer, diciamo, in cui il poeta presenta i contenuti fondamentali della sua opera. Poi abbiamo nelle ottave due e tre l'invocazione alla Musa e poi infine nell'ultima sequenza abbiamo la dedica, la dedica che comprende appunto le ottave quattro e cinque, la dedica, essendo Tasso un poeta cortigiano, al duca Alfonso II d'Este. Va bene? Quindi, detto questo, andiamo ad analizzare la protasi, per esempio. «Canto l'arme pietose e il capitano, che il gran sepolcro liberò di Cristo, molto egli oprò col senno e con la mano, molto soffrì nel glorioso acquisto, e in van l'inferno vi soppose, e in vano sarmò d'Asia e di Libia il popolo visto, il ciel gli die favore e sotto ai santi segni ridusse i suoi compagni erranti». Allora, il primo verso sembra riprendere quasi letteralmente il primo verso del proemio dell'Eneide di Virgilio. Adesso noi sappiamo che il modello della Gerusalemme liberata non era certo l'Orlando furioso di Ariosto, ma erano i grandi poemi epici, cioè Omero con l'Ilia dell'Odissea e soprattutto Virgilio con l'Eneide. E Virgilio nel primo verso dell'Eneide scrive «Arba, virunque, cano, canto, le armi e l'uomo, l'eroe, che poi sarebbe Enea». Tasso scrive «Canto, l'arme pietose e il capitano». Quindi, come vedete, quasi un rifacimento letterale del primo verso dell'Eneide. «Canto, che cosa? Le armi pietose, la guerra santa, no? Pietose deriva dal latino Pietas, che come sapete è la caratteristica principale dell'eroe dell'Eneide di Enea, che noi possiamo tradurre con religiosità, anche se la traduzione di Pietas con religiosità è una traduzione molto libera. La Pietas rappresenta quell'insieme di valori, per cui un eroe come Enea si sottomette al volere degli dèi, perché ha una missione da compiere, e, diciamo, dimentica se stesso, dimentica i suoi sentimenti, i suoi bisogni. Quindi, quel sistema di valori che pone Enea come, diciamo, rispettoso nei confronti della patria, nei confronti dei genitori, nei confronti degli dèi. Quindi, le armi pietose, le armi religiose, la guerra santa combattuta nella prima crociata per la liberazione del santo sepolcro, per la liberazione di Geusalemme dagli infedeli, dai turchi. E il capitano? Il capitano sarebbe il comandante della prima crociata, e cioè Goffredo di Buglione, quello che, secondo Tasso, doveva essere l'eroe principale del suo poema, tanto che Tasso aveva pensato di intitolare il suo poema non a Gerusalemme liberata, ma a Gottifredo, va bene? Un eroe, tra l'altro, diciamo, incentrato proprio ad imitazione della figura di Enea, perché anche Goffredo è l'eroe pietoso per Antonomasia, cioè l'eroe religioso, l'eroe che antepone il suo dovere di capitano, quindi di comandante della prima crociata, quindi il suo dovere religioso di liberare Gerusalemme dagli infedeli, ha ogni suo bisogno e ogni suo sentimento. Solo che con, diciamo, il particolare, diciamo, non di poco conto che mentre Enea è un eroe riuscito, cioè un personaggio approfondito, originale, riuscito, Goffredo invece risulta un personaggio molto scontato e molto scialbo. Comunque, canto, quindi, le armi religiose, la buona santa e il capitano che liberò il gran sepolcro di Cristo. Ecco, vedete, la descrizione di questo capitano è molto simile a quella di Enea, perché che cosa fece questo capitano? Molto egli operò col senno e con la mano, quindi con l'intelligenza e in maniera pratica, quindi in maniera, diciamo, teorica e in maniera pratica. E molto soffrì nella gloriosa conquista di Gerusalemme, quindi l'opera di Goffredo è un'opera non scebra da sofferenza, va bene? Come del resto anche la stessa opera di Enea nel raggiungere il Lazio. E in vano gli si oppose l'inferno e in vano si armò contro il capitano e contro, diciamo, i cristiani, il popolo misto di Asia e di Africa, perché Libia è un asineddo che è per indicare tutta l'Africa. Il cielo lo favorì e sotto le sante insegne ricondusse i suoi compagni erranti. Allora, il cielo lo favorì perché è chiaro che le potenze celesti sono dalla parte dei cristiani, quindi dalla parte di Goffredo. E Goffredo che cosa fa? Non solo comanda la spedizione, ma ci sono nel poema i compagni erranti. Allora, errare nel senso di sbagliare e nel senso anche di viaggiare, cioè allontanarsi anche, diciamo, letteralmente dal proprio compito. Perché? Cosa succede? Chi sono questi compagni erranti? Sono Tancredi e Rinaldo. Costoro sono dei guerrieri cristiani che dovrebbero pensare solo a combattere, mentre in realtà sono sbiati dall'amore. Tancredi perché si innamora di Croninda, e poi sappiamo come va a finire, uccide per sbaglio la donna amata, Rinaldo perché viene sedotto dalle grazie voluttuose della maga Armida. Ma bene, quindi sono compagni che sbagliano e sono compagni che si allontanano dal centro, che sarebbe Gerusalemme, quindi dal loro compito quello di assediare Gerusalemme. Ed è proprio Goffredo che fa di tutto per riportarli sotto le sante insegne, cioè per riportarli al loro dovere di cavalieri cristiani. Ma bene, ecco perché il tasso conclude scrivendo sotto i santi segni ridusse i suoi compagni erranti. Allora, qui abbiamo appunto i contenuti principali dell'opera. Abbiamo anche quelli che possiamo definire i tre nuclei narrativi dell'opera. Perché quali sono i nuclei narrativi? L'arme pietose contro il popolo misto. L'arme pietose sono i guerrieri cristiani, no? I guerrieri cristiani che si oppongono al popolo misto. Il popolo misto sarebbero, più che i musulmani, sarebbero i pagani. Perché, attenzione, come sostiene anche il critico Sergio Zatti, i cristiani, i guerrieri cristiani e Goffredo in particolare che li guida, rappresentano l'uno, cioè il pensiero univoco, il pensiero unico della controriforma. Mentre il popolo misto degli infedeli, praticamente, è un popolo multiforme, variegato, perché infatti ci sono popoli d'Asia e di Africa. Quindi popoli che parlano lingue diverse, che hanno usi e costumi diversi, che provengono da luoghi diversi, va bene? Quindi è un popolo multiforme. Infatti, più che rappresentare i musulmani storicamente, questo popolo misto rappresenta appunto i pagani, cioè rappresenta il pensiero molteplice del Rinascimento e dell'Umanesimo, verso il quale il tasso, nella sua opera, mostra di provare molta nostalgia. Quindi, cristiani contro pagani, uno contro molteplice, inferno contro cielo, sappiamo che le forze infernali combattono a fianco del popolo misto, mentre le forze celesti combattono con le armi pietose, quindi insieme allo scontro tra cristiani e pagani c'è lo scontro tra cielo e inferno, quello che tra l'altro il tasso chiama meraviglioso cristiano, e infine Goffredo contro, cioè che si contrappone ai compagni erranti, perché se Tancredi e Rinaldo si fanno sviare dall'amore, il capitano invece è molto inquadrato e pensa solo alla sua missione religiosa di combattere contro gli infedeli. E questo praticamente è la protasi, vedete quante cose ci sono nella protasi. E veniamo adesso all'invocazione alla Musa, che non è certo l'invocazione alla propria donna, come fa l'Ariosto nell'Orlando Furioso. Qui invece il tono è molto alto. O Musa, tu che digaduchi all'Ori, non circondi la fronte in elicona, ma su nel cielo, infra i beati cori, hai di stelle immortali aurea corona. Tu, spira al petto mio, celesti ardori, tu rischiara il mio canto, e tu perdona, sintesso freggi al ver, s'adorno in parte d'altri diletti che dei tuoi le carte. Sai che là corre il mondo ove più versi di sue dolcezze e lusinghier par naso, e che il vero, con dito e molli versi, i più schivi allettando ha persuaso. Così, allegro fanciul, porgiamo a sversi di suavi licor gli orli del vaso, succhiamare ingannato intanto e i peve, e dall'inganno suo vita diceve. Allora, come ho detto prima, qui l'invocazione ha un tono molto elevato, infatti il tasso invoca la musa, è una musa speciale perché è Urania, la musa della poesia religiosa, ma questo perché il poeta voleva scrivere un poema religioso, non un poema cristiano, il cui scopo fosse quello di insegnare i valori del cristianesimo, soprattutto del cristianesimo, della controriforma. Allora il poeta si rivolge alla musa con questa apostrofe, o musa, e che cosa dice? Che cosa le dice? Tu che non circondi la fronte in l'icona, che era il monte delle muse, con allori caduchi, gli allori, sapete che l'alloro è il simbolo della gloria poetica, ma il tasso non cerca la gloria poetica, perché è qualcosa di caduco, di effimero, essendo una cosa terrena. Il tasso cosa cerca? Ma su nel cielo, fra i cori dei beati, hai una corona aurea di stelle immortali, tu ispira al mio petto celesti ardori, insomma ispirami in maniera divina, tu illumina il mio canto, e tu perdonami se io intreccio la verità con gli ornamenti, se adorno in parte con altri diletti che non sono i tuoi, le mie carte. Allora, quindi che cosa ci sta dicendo il poeta? Il poeta ci sta dicendo che scrivendo questo poema non vuole raggiungere la gloria poetica, che è qualcosa di caduco, di effimero, ma vuole la gloria immortale del cielo, insomma cerca la salvezza dell'anima, cerca un'aurea corona di stelle immortali. Infatti caduchi allori sono in contrapposizione con stelle immortali, non solo in antitesi, ma formano anche un chiasmo. A, B, B, A. Tu, tu, tu abbiamo un'anafora, tra l'altro dobbiamo metterci anche quest'altro tu nell'anafora, come anche un'anafora è molto, molto, va bene? e poi il poeta si scusa se appunto insieme alla verità storica, insieme al vero, va bene? Mette i freggi, mette l'invenzione poetica, insomma mette le parti romanzate, le parti che poi erano le parti, le vicende incriminate di amori e di magia, quelle che non erano piaciute ai censori dell'inquisizione. Però il poeta si scusa dicendo che sai che il mondo corre dove il lusinghiero Parnaso versa le sue dolcezze e sai che la verità, condita con versi piacevoli, ha persuaso a leggere, allettandoli, stimolandoli, anche più schivi. E allora per spiegare appunto questo, cioè per spiegare la presenza di diletto e giovamento per spiegare la presenza dei freggi utilizza la metafora che aveva utilizzato anche Lucrezio nel Dererum Natura, quella di dare al fanciullo malato la medicina amara in un vaso però che ha gli orlicospassi di miele in maniera tale che il fanciullo possa bere questa medicina amara addolcita dal miele e possa così guarire. Ecco, il miele sono appunto i freggi, le invenzioni poetiche, le parti piacevoli, no? Che ha letto il lettore a leggere, il vero invece è il contenuto che serve da giovamento, no? Quindi da insegnamento, quindi contenuto storico e religioso. Quindi così porgiamo al fanciullo malato e gli orli del vaso cospassi di suavi liquori, cioè di miele. Egli intanto ingannato beve i succhi amari della medicina e dall'inganno suo riceve la vita, cioè riceve la guarigione. Ripeto, un paragone, una metafora ripresa dal Dererum Natura di Lucrezio che così spiega l'uso della poesia per insegnare la filosofia epicurea. Andiamo ora alla dedica ad Alfonso II d'Este. Tu, magnanimo Alfonso, e qua ritogli al furor di fortuna e guidi in porto, me, peregrino errante, e fra gli scogli e fra l'onde agitato e quasi absorto, queste mie carte, in lieta fronte accogli, che quasi in voto a te sacrate i porto. Forse un di fia che la presaga penna osi scriver di te quel corno accenna. Allora, abbiamo qui un'altra apostrofe al magnanimo Alfonso, cioè al suo signore, che lo accoglieva nella corte e la corte qui viene vista come un porto dove il poeta trova rifugio dalle sue inquietudini. Infatti, tu, magnanimo Alfonso, il quale salvi dal furore della tempesta e guidi nel porto, cioè nella corte, me, pellegrino errante, sballottato fra gli scogli e fra le onde, è quasi sommerso. Vedete, qui il poeta si presenta come un pellegrino errante, quindi un uomo, diciamo, devastato dalle inquietudini, che anche per questo aveva viaggiato molto. Però, appunto, la corte, in questo caso, viene vista come un porto di quete, come un luogo in cui il poeta trova accoglienza e soprattutto rifugio, va bene, nelle braccia del magnanimo Alfonso. Quindi, tu e me sono in contrapposizione. Da una parte c'è il generoso Alfonso che lo accoglie, dall'altro c'è il poeta pellegrino con tutte le sue inquietudini. Quindi, accogli, con gli età fronte, queste mie carte, naturalmente, carte per poema è una metonigna è una metonigna che io porto in voto, quasi in voto, consacrate, dedicate a te. Va bene, abbiamo porto e porto, va bene, che sono una paronomasia perché porto è il nome porto mentre porto è il verbo portare. Quindi, paronomasia, cioè due parole che hanno lo stesso suono ma significato diverso e anche rimequivoca, naturalmente. Forse ci sarà un giorno in cui la profetica penna oserà scrivere di te quello che ora solo accenna. E qual è? Qui, nell'ultima strofa, addirittura il poeta immagina che se ci sarà una nuova crociata e voglio dire il bisogno di una crociata era d'attualità perché come sapete in quel periodo c'erano i turchi che avevano creato molta paura in Europa, tra l'altro avevano anche raggiunto Vienna e quindi si sentiva il bisogno di allontanare questi turchi perché si aveva paura che potessero invadere l'Europa e quindi il tasso immagina che se ci sarà una nuova crociata contro questi infedeli a capo di questa crociata sarà messo proprio Alfonso, il duca Alfonso che guiderà o le truppe di terra o le truppe di mare e quindi lo chiama Emulo di Goffredo va bene un imitatore di Goffredo un nuovo Goffredo diciamo un nuovo capitano infatti è ben ragione cioè è giusto se avverrà che il buon popolo di Cristo finalmente si vedrà in pace quindi tutto unito i cristiani tutti uniti che quindi con navi e con cavalli cercheranno di togliere al ferro trace cioè al turco la grande giussa preda cioè Gerusalemme che in effetti in quel periodo era sotto il dominio dei turchi avverrà che a te sarà concesso lo scettro in terra quindi la guida dell'esercito di terra o se ti piace l'alto comando dei mari vedete questa anafora a te a te quindi Emulo di Goffredo intanto ascolta i nostri canti i nostri canti e preparati a combattere va bene quindi una bella captazio benevolensie qui nell'ultima strofa del resto ragazzi concludo dicendo che ogni strofa si può caratterizzare si può sintetizzare perché nella prima strofa c'è la protasi abbiamo detto e c'è il contenuto tutto il contenuto in sintesi del poema nella seconda strofa c'è l'invocazione alla musa e il desiderio del poeta di scrivere un poema religioso e quindi di ottenere la gloria celeste nella terza strofa abbiamo la dichiarazione di poetica che spiega appunto l'uso dei freggi l'uso dei diciamo degli episodi incriminati degli episodi romanzati degli episodi di amore e di magia nella quarta strofa abbiamo l'invocazione la dedica al cardinale al cardinale scusatemi al duco Alfonso e poi nell'ultima strofa nella quinta c'è appunto questa immagine che il poeta pensa profetizza di Alfonso come nuovo capitano come un novello goffredo di buglione che guiderà una nuova crociata contro gli infedeli in realtà come sappiamo i turchi vennero fermati nel 1571 da Filippo II con la battaglia di Lepanto ed è curioso il fatto che appunto la battaglia di Lepanto si svolge proprio negli anni in cui Tasso sta scrivendo la Gerusalemme liberata perché la Gerusalemme liberata viene scritta tra il 1570 e il 1575 guarda caso ecco quindi da qui possiamo possiamo dedurre che i turchi facessero tanta paura agli europei anche agli italiani appunto e che si sentiva il bisogno appunto di qualcuno che li fermasse cioè di qualcuno che guidasse una nuova crociata contro questi infedeli va bene e con questo abbiamo finito grazie a tutti